Buongiorno, andiamo a preparare ora il caffè moca. Il caffè moca cos'è? È un cocktail fatto con una base di cioccolata calda, di M-Choc, un espresso, latte caldo montato al vapore e andremo a completare il tutto con della panna montata a spray. Ma andiamo a vedere meglio le fasi della preparazione. Quindi prima di tutto andiamo a prendere un bicchiere di vetro alto, andiamo ad inserire la base di cioccolata calda di M-Choc. A questo punto andremo a preparare l'espresso e andremo a montare il nostro latte caldo. A questo punto andremo a versare il nostro espresso, amalgamiamo bene il latte e andiamo a versare fino a riempire, fino a tre quarti, il nostro bicchiere. A questo punto andiamo a colmare con panna montata. Andiamo a completare il tutto o con del topping al cioccolato o volendo con delle granelle di nocciola. Non ci rimarrà altro che andare a servire il nostro drink augurando una buona degustazione al nostro clink.